Ciao a tutti, questo è Poli e Lorenzo. Stiamo ascoltando X-Transmission. In alcuni secondi, stiamo ascoltando l'esclusivo selezione di tratti creati dal creatore di alcuni anthems molto ben conosciuti. Sto parlando di tratti come Mew. Hai mai avuto un sogno? Impulsivo comportamento e molti più. Tratti sui libri importanti come Mord e Code è Low. Oggi, a X, abbiamo Under Black Helmet. Questo artiste berlin-basato, lituanico, non parla di sorprendere i suoi seguenti con tratti molto riconoscibili che non possono lasciare la tua mente quando li ascolti. Quindi, non possiamo andare più avanti per ascoltare il prossimo release, un EP out in September on Morbex label e chiamato Juvenile Morale. A presto! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.